buongiorno oggi è il primo dicembre il primo giorno di vlogmas buongiorno sono appena sveglia e oggi a napoli c'è un bellissimo bellissimo sole quello volevo far vedere un attimo non si vede forse tanto però c'è bel sole lo volevo far vedere nonostante primo dicembre ecco qui questa è la mia colazione mi sto mangiando questi biscottini veramente veramente buoni al cacao della doemi veramente buoni senza zuccheri aggiunto al cacao con fiocchi da vera e farina integrale veramente una bella scoperta li ho comprati al simpli e insieme a questo qua l'arte di cocco alpro che è troppo caro anzi cerco una versione un pochino più economica e niente questa sarà la mia colazione con due o tre biscottini e basta allora ecco qua ho fatto il mio impacco con l'amla di cui poi magari vi farò vedere il risultato e quindi vi farò un tutorial veramente un gran coraggio a farvi vedere così comunque da oggi primo dicembre con il blog ma si inizia anche una serie di trattamenti di bellezza in sottofondo c'è Adele che se ne dica che questa canzone è orribile è lenta e come avevo detto è triste ma secondo me è la canzone di dicembre ed è veramente bella vabbè non so con quale coraggio pubblicherò anche i piccoli brufolini vabbè però vi giuro io con quale coraggio pubblico questo video vabbè apprezzate il coraggio insomma allora ciao ragazze sono in macchina e praticamente sono stata in giro tutto il pomeriggio sono andato a vedere un po' di regalini non posso dire per chi perché altrimenti chi vedrà questo blog mi sgama alla grande però insomma non ho potuto vloggare perché il mio cellulare mi sta abbandonando e quindi si è spento a un certo punto e non ho potuto più fare le riprese ora l'ho messo un attimo a caricare e quindi questo adesso sto andando a prendere mia sorella alla stazione della metropolitana che torna da lavoro e praticamente questa giornata di primo vlog è andata così diciamo ah volevo dirvi che la maschera di Amla è fantastica ma veramente meravigliosa ho dei capelli così lucidi che così più lucidi non si può no comunque veramente bello 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 mi è piaciuto un sacco magari vi farò un video e vi faccio vedere come la preparo sono veramente lucidi rimpolpati non ho usato nessun tipo di silicone nei miei capelli e non mi aspettavo un effetto così da una maschera naturale comunque nulla questo è il primo giorno di vlog vlogmas e che poi intanto non c'è nulla oddio di natalizio in questo vlog ma in realtà sono veramente i primissimi giorni di dicembre in cui di natalizio natalizio proprio non c'è tantissimo nella mia villa però vabbè ah volevo dirvi che praticamente vabbè questo vlog non penso venga caricato il primo dicembre perché comunque oggi è il primo dicembre e non so quando si caricherà non si caricherà domani e nulla ovviamente il vlogmas il concetto di vlogmas consiste anche nel fatto che non è detto che devo caricare o posso caricare tutti 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 i giorni però il concetto invece è che io caricherò 5 giorni in cui veramente avrò tanto tanto da raccontare o almeno qualche piccola cosina perché magari i giorni morti è inutile che carico no? voi che ne dite? come la pensate? ecco qua sono arrivata alla stazione cosa ne pensate? cioè volete che carico anche se non sono giornate piene piene? oppure non lo so ditemi voi sì ho fatto un singhiozzino e nulla ragazzi questa giornata avrei voluto vloggare in realtà quando sono andata a cercare quei regalini però non l'ho potuto fare perché grazie al mio telefono infatti vorrei che Babbo Natale me ne regalasse uno ti prego Babbo Natale mi regali un bel iPhone 5 se non ti puoi chiedere il 6 però se vuoi il 6 va bene uguale perché veramente questo mi sta abbandonando e vabbè ragazzi vi mando un bacio forte buon primo vlogmas primo giorno di vlogmas spero che non vi siete annoiati veramente tanto e che invece un pochino mi abbia tenuto compagnia ci vediamo domani